Incontriamo di nuovo il dottor Antonino Gitto perché intende ringraziare le tantissime persone che hanno apprezzato i suoi consigli sul risparmio energetico. Dottore Gitto mi diceva che le hanno telefonato tante persone e anche tanti messaggi. Sì, ringrazio sempre TVA, una settimana dietro è andato in onda il servizio sul risparmio energetico dove ho dato dei consigli sullo scaldacqua e ho ricevuto apprezzamenti di stima, congratulazioni da parte di molte persone. Le visualizzazioni su Facebook sono state 10.000 e allora volevo esprimere la mia gratitudine, il ringraziamento per gli elogi che mi sono stati fatti. Se in futuro dovessero subentrare ulteriori sviluppi positivi, con il permesso del direttore sarà mia premura informare i cittadini sull'augurio che questi sviluppi siano benefici per l'interesse di tutti. Nell'assieme che mi trovo qui in presenza del direttore, sapendo che il telegiornale di TVA poi viene trasmesso via online e quindi è possibile visualizzarlo in tutta Italia, volevo rivolgere un invito, se può essere utile, perché nella mia vita la maggior parte dell'inventiva, dei miei studi li ho dedicati alla sicurezza stradale, quindi senza presunzione sono una persona molto esperta. Ora io faccio l'invito a dei funzionari del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dove appunto vengono realizzate le contromisure per arginare gli incidenti che coinvolgono migliaia di giovani in sinistri che talvolta si rivelano mortali con il conseguente dolore dei familiari, che essendo un esperto sono disponibili a fornire dei consigli, delle contromisure e soprattutto segnalare gli errori, mi dispiace dirlo, che lo Stato commette in questo delicato problema e che poi si tramutano in uno spargimento di sangue sulle strade. Quindi il mio suggerimento, la mia iniziativa, se funzionari del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture vogliono conoscere la mia opinione, sono disponibili a fornirla ed eventualmente anche se vogliono arregarmi a Roma, per esempio nel periodo natalizio, e discutere di questo delicato problema da cui la società avrebbe un grande beneficio. Ecco, nella sostanza lei mette a disposizione delle autorità nazionali in materia di trasporti la sua esperienza, i suoi studi in materia di sicurezza stradale ecco, sottolineiamo che tutto questo lei lo fa gratuitamente e quindi insomma lo fa per limitare... Almeno ci ho dedicato una trentina d'anni non è veramente... 30 anni di studi sulla sicurezza stradale lei fa tutto questo perché dice ci sono troppi morti sulle strade e quindi dobbiamo intervenire. E' quello che vorrei sottolineare che mi accorgo per esempio quante errori vengono compiuti uno fra tutti da parte dello Stato è quello dell'emergenza cioè la sicurezza stradale finisce in situazioni di urgenza cioè in pratica i telegiornali nazionali trasmettono cattive notizie come dovere di cronica tipo per esempio tragico fine settimana sulle strade d'Italia e lo Stato cosa fa? Vari provvedimenti urgenti e commette un grave errore. Lei dice che deve essere costante l'intervento. Allora cosa accade? Che quando avvengono questi errori e poi i provvedimenti urgenti diventano norme di legge invece comportano scarsi benefici e allora l'errore che si fa è che la sicurezza stradale dovrebbe finire in un tavolo di collaborazione cioè ogni decisione prenderla con una lunga riflessione perché poi appunto anziché dei benefici abbiamo un danno ma uno dei 10-15 errori che lo Stato commette. E allora approfittando di questa della presenza e dell'onore che ho di TVA volevo dire che se queste persone sono interessate appunto il tutto assolutamente gratuito a sentire la mia opinione sono disponibili a portarla avanti e a parlare con questi signori.